Buongiorno amore, siamo tornati a casa dalla vacanza, che tristezza, stai meglio a casa o stavi meglio in vacanza? In vacanza, avete giocato tantissimo, abbiamo conosciuto tantissimi... Abbiamo preso tantissime paperelle, ma i nostri amici le hanno viste E adesso stai apprezzando, Vanessina sta ancora dormendo E poi... Quanto... Questa sera? Sì Questa sera noi stiamo con degli amici E la Vanessa non fa niente Allora non scrivete niente, perché se scrivete magari lei guarda il video e poi lo avete scritto Va bene, d'accordo Non capisco tutto Ok, ok amore Adesso quando si sveglia Vanessa procediamo con i compiti I pochissimi compiti che abbiamo da recuperare Sì, è vero Eh sì, ti aiuto, io avrei la casa da mettere sotto sopra Ma vedremo, mi farò aiutare da qualcuno Va bene, adesso finisci di pranzare che io sto lavorando E ci vediamo più tardi quando scende anche l'avane Eh? Così la salutiamo Sì, ammettite niente Ok Buon amore, ben sveglia Dormito bene? Sì La pasta, ma adesso è tardi per te Cioè penso che tu non abbia voglia adesso di mangiare pasta Perché ti sei appena alzata E poi procediamo con i compiti Ok? Va bene Perché guarda che domani è l'ultimo giorno Adesso cerchiamo di finire di recuperare qualche scritto L'ultimo giorno prima delle vacanze No, oggi è domenica No, oggi è lunedì Era ieri domenica tesoro Eh, domani è martedì E poi si va a scuola Quindi ce l'ho a studiare Dai Cosa vuoi? Me lo dici E la fai Acre per la nutella Allora Cosa state facendo voi due? Vanessa Sei andata male Cosa hai fatto? Allora ragazzi Vi devo spiegare che Vanessa Ha iniziato a fare il robot in vacanza Perché ha visto uno spettacolo di robot E da lì in poi si crede robot Ma I compiti Finiamo questi Miliardi di compiti Che abbiamo da fare Che stasera dobbiamo andare fuori a cena E allora Non vi è servita una vacanza Per rilassarvi a voi due? Pronto chi parla? Pronto chi è? Io Guardate Vanessa che fai il robot Sposta questa sedia Aspetta Non prendo così volevo Io Anastasia Non litigate Oh Mamma mia Ma è male che sono tripli vetri Ma cosa state facendo? Bambine 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 La smettete La smettete Anastasia Anastasia Oh Anastasia Allora Guardate che stasera Non andiamo a cena Spegni 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 Dai Dai Fate le brave Calmatevi Oh No vabbè ma io la voglio di ammazzo La devi smettere Non è facile fare il robot Brava Anastasia Oh ma voi due siete pazze Dai ma siete pazze? La smettete? No Cosa no Sì invece Smettetela Dai Si è rotto No Stai scherzando No si è rotto il telefono Mi hai fatto cadere il telefono E si è rotto Mi hai fatto volare il telefono Ah ma adesso smettila eh Venite smetterla però adesso Adesso non esagerate Anastasia e Vanessa smettetela Guardate che vi fate male Guardate che vi fate male Anastasia È vero Anastasia ma così No Anastasia Ma voi due Cosa succede? Si ho capito adesso basta però Basta Va bene che fa così ma basta Anastasia dai non ti preoccupare Vieni Anni Ok Basta eh Andate a fare i compiti Andate a fare i compiti Stop Andate a fare i compiti Ok Stasera non si esce comunque No Allora andate a fare i compiti Io a te Ti prendo adesso Per i capelli E te li strappo Ti sei fatta male? Ma io Ti sei fatta male? Ma io Ti sei fatta male? Amore Adesso smettila Adesso basta Adesso sapete cosa faccio? Inizio la scuola Vi lascio dai nonni E io mi vado a fare una vacanza con papà senza di voi Dovete smetterla Dovete smetterla Spaccate qualcosa Basta eh Niente Io veramente Allora fate una cosa Scannatevi Sì No stavo scherzando Sì Stavo scherzando Alzati Ma adesso vai a finire i compiti Anni E tu vai in un'altra stanza Ma è vero? Anastasia smettila Sì Smettila Anastasia smettila che le fai male Scannate? Che succede? Ti esce il fumo dal naso Ti è arrabbiato amore Ma amore Ma lascia la stessa Cos'hai detto? Il fumo per la nasa Vanessa Guarda che sei tremenda Amore Ehi 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 Non comincia Vanessa Guarda che ieri Mi senti Mi senti Perché mi ha chiesto Vanessa Vanessa ieri per una cosa del genere È finita male Perché? Perché ti aveva chiesto la penna Presta lì immediatamente questa gomma Lei non mi ha prestato il pastello Vanessa Guarda che stasera Ti tengo a casa E non ti faccio incontrare la tua amica Ti faccio vedere una gomma bellissima Sono su comunque le gomme Sono in cameretta nel sacchetto L'hai trovata? Che bellina Dove l'hai trovata questa gomma? La mia Amore Ma cancetta No lascia stare Sì Vabbè Dai Studia storia Due paginette Studia storia Ti sei rilassata una settimana Che chi? In prima elementare Perché tu fai A e I Forse Forse Li sa forse Ma lo so se devi fare uno più uno Fai Uno più uno A due Tre più tre? Sei Quattro più quattro? Cacca Che cacca Avete fatto pace? Vi siete calmate? Ah meno male Era ora Dai allora Andate su Che io adesso devo finire di mettere in ordine qua Che poi si esce Doccina prima eh Che rivediamo la nostra amica Giada O non litigate Se vi sento litigare Chiamo la mamma di Giada E le dico che noi stasera non usciamo Te capi? Sì Per capi? Per capi? Andate a finire di guardare Biancaneve Vanessa tu devi studiare storia Guarda che domande Siamo a pranzo dalla nonna Sì ma non l'hai ancora fatto Vuoi studiare con me? No No Ma dopo dobbiamo uscire Ma dopo Ok va bene ciao Sì Cosa c'è? Perché state litigando adesso? Sì Perché mi hanno l'olito purta Cos'è che dice? Che mi hanno l'olito purta Ma non è vero Io prima li ho lavati Anche io la l'olito Allora Sì Cominciamo? Eh? Allora No Allora Hai profumato Non è vero È profumato Ragazze dobbiamo uscire Che papà ci sta aspettando A caramella la menta No non ce l'ho messo più Te li sei lavati i denti? Tu sì? Lo so Sì hanno usato Vabbè dai andiamo ragazze Su Andiamo un attimo adesso all'action Cerchiamo quello che ci serve Dobbiamo mettere le paperelle dentro un cesto Vedi? Uno di questi Ok prendiamolo E anche quello rotto che si è rotto in sala Presi Guardate quanti Adesso andiamo a casa eh Su sta fa vedere Tenta la strada eh more Anè Hai visto Anastasia? Non la trovo Come? Ma Ma dai Dove è Ani? Gasper Scusa? Ma cosa ci fai tu qua dentro? Ma sei pazza? Anche Gasper vuole entrare Gasper vuole entrare anche tu? Ma alzati Guardate le scarpe Ma le tirate Ma tu sei Sai cosa potremmo comprare? Ma ci stai perfettamente di dentro No tu lo rompi Sei più grande Non ce la puoi fare Dai ti prego No non ci stai A meno che non sei una Forse si Aspetta Dai quasi Sembri dentro un acquario Allora Anastasia hai capito Cosa devi fare qua? Devi met... No ma la scelta ruta Anche tu dentro amore eh Vabbè sono così diversi Vabbè che cerca una via d'uscita Ani dai facciamo quel lavoro Ok? Ok Dai Allora Bimbe Dai giornata finita Giornata terminata Stete tranquille? Eh? Promettete che non litigate più come oggi? Promesso? Dai allora andiamo a dormire E ci vediamo domani in un prossimo video Piccioline e piccioline Iscrivetevi al canale Azzurrate la campanella E lasciate un bel like in su Ciao E non litigate che i vostri fratelli sorrini Ciao Ciao